bene ragazzi io mi chiamo bianco e benvenuti sul mio canale mi vedo allo specchio no scusa oggi vedrete la super luna un po più grande adesso ve la faccio vedere aspettate che ve la faccio guardate è più grande vedete più grande stavolta stavolta è più grande raga è metà tagliata che sta facendo la forma crescente c'è la super luna però è ancora più grande stavolta sa come all'alba da ci sono le bombe se volete vederle e faccio vedere ci sono anche costellazioni in cielo ma non si vede dal te si vedono le bombe faccio vedere un po si vede una stella qua e ora vi faccio vedere la super luna vedete è grande più grande raga la faccio vedere da lontano è più grande dal telefono si vede così ma è più grande stavolta la super luna è più grande però quando era dietro quella casa si vedeva una luce molto abbagliante ed era un po più grande anche stasera c'è la super luna super luna è stata tre giorni non è più grande stavolta la super luna è più grande stavolta la super luna è più grande callto per quello che raccordi senza la super luna è più grande stavolta la super luna è più grande app seek 언니 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.